I fantasmi del passato contano, anche per uno romantico rivoluzionario come Schumann. La sua storia creativa è un continuo confronto con la grande forma classica, ammirata, rivista, combattuta, sconvolta. Il genere della sonata per violino e pianoforte aveva avuto il suo gigante, Beethoven. Con lui bisognava fare i conti, oltre che con l'insopprimibile anelito verso il profondo, il lontano, l'infinito, le parole che già Leopardi aveva individuato come l'essenza della poetica romantica. Sarà anche per questi motivi che Schumann si mostrò subito insoddisfatto della sua prima sonata, appena completata, e si mise subito al lavoro per una nuova opera. La grande sonata in Re minore fu ultimata in pochi giorni, e dire che si tratta di una composizione dalle proporzioni colossali di respiro sinfonico. Una lotta epica con il materiale tematico, una dilatazione spasmodica delle strutture, per racchiudere nella forma ereditata dai classici un mondo interiore visionario e travolgente. Punto d'arrivo della ricerca cameristica di Schumann è ancora oggi il monumento da interrogare per chiederci che cosa significhi per noi la musica romantica. Ci accompagnano in questa straordinaria esperienza d'arte e di conoscenza due interpreti veri come pochi, Fulvio Luciani e Riccardo Zadra, alchimisti sensibilissimi di suoni e coscienze, ideale trait d'union fra l'anima di Schumann, il nostro cuore di ascoltatori e la loro stessa dimensione di artisti. Grazie. 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 Grazie.